Allora, continuiamo il nostro percorso sul catechismo cattolico con una domanda che apparentemente potrebbe sembrare semplicemente oziosa, una domanda alla quale rispondere quasi una domanda retorica, cioè se si possa vivere da cristiani senza pregare. Però attenzione che è sempre più diffusa invece questa idea che di fatto il cristianesimo sia semplicemente un comando di occuparsi degli altri, quindi una beneficenza di tipo fisico, quindi qualcosa legato semplicemente a fare opere di carità, e che dunque la preghiera e la vita spirituale sostanzialmente, così ci dicono molti sacerdoti anche della chiesa cattolica, non servono di fatto a nulla. La risposta ovviamente è no, non si può vivere da cristiani senza pregare, ma per il semplice motivo che l'anima vive di preghiera quanto il nostro corpo vive del respiro. E l'anima è stata creata da Dio per la preghiera, è stata creata da Dio per la relazione con Lui, Dio ci ha creati per la relazione con Lui, per la beatitudine con Lui, e solo attraverso la preghiera noi possiamo veramente essere felici, essere in comunità con Lui. Pertanto, dicevo, non è possibile, l'anima muore senza preghiera e cade facilmente nel peccato mortale. La preghiera è il respiro dell'anima, che è stata creata da Dio per la vita eterna. Pertanto è necessario pregare, e molto, non credete a Lutero e amici quali dicevano che la preghiera è inutile, ci sono dei testi di Lutero dove lui dice che la preghiera è inutile, perché? Perché nella sua ottica eretica, ribadisco, eretica, egli ritiene che le opere non producono alcun frutto. E allora, siccome le opere non producono alcun frutto, anche la preghiera, che di fatto un'azione dell'uomo non ha nessun risultato. Pregate incessantemente, dice invece San Paolo, quello che ha parole, signor Lutero dice di conoscere, nella prima lettera ai Tessalonicesi, versetto 17, pregate incessantemente. Se forse non è possibile sempre adempiere al monito di San Paolo, è possibile trasformare però la propria vita in rendimento di grazie a Dio e fare tutto ciò che si fa per lui. In questo modo la vita diventa preghiera di ringraziamento costante al Signore. Naturalmente non vi è solo la preghiera di ringraziamento e di lode al Signore, vi è anche la preghiera in cui chiediamo una grazia. E non vi è nulla di male nel farla, contrariamente a ciò che dicono alcuni eretici. E va di moda adesso dire che no, non dobbiamo seguire quel cristianesimo che è solo un doot des, che io amo Dio perché lui mi dà qualcosa, ma io non ci vedo alcunché di male, perché Dio stesso ci ha detto se farete la mia volontà io vado a prepararvi un posto in paradiso. C'è una ricompensa, ebbene sì, c'è una ricompensa che Dio ci dà per quelle che sono i nostri meriti. I nostri meriti. Il Signore è felice di esaudire la nostra preghiera e non vi è alcun gioco materialistico in ciò. Non credete, badate bene, non credete, fanno l'opera del demonio. Il demonio non vuole che si compiano le opere perché il demonio è contrario all'opera di Cristo e quindi non credete a questi servi del demonio invece che servi di Dio, non ci credete. Al contrario la preghiera in cui chiediamo una grazia è il riconoscimento a Dio che non possiamo nulla senza di Lui. Quindi altro che i cattolici pensano sono pelagiani, i cattolici hanno l'idea di poter salvarsi da soli, ma niente affatto, non possiamo nulla senza la grazia, ma la grazia deve essere unita alle opere. La nostra risposta a Dio sono le opere. Lo Spirito Santo ci guida, naturalmente, il Paraclito, colui che ci sta accanto nella vita di preghiera. Bene, questo per concludere in breve. Poi un'altra domanda importante, una domanda più filosofica, forse mi ha chiedi riscontri delle ripercussioni anche sicuramente religiose, teologiche, se la materia, il concetto di materia esista da sempre. Questa domanda me la sono posta e l'ho inserita in questo catechismo perché se noi studiamo per esempio la filosofia antica, in particolare la filosofia greca, ci accorgiamo appunto che i greci antichi che non conoscevano Cristo ritenevano che la materia esistesse da sempre. I greci non potevano tollerare che le cose avessero avuto un inizio e non c'è nella cultura greca, nella filosofia greca, il concetto di inizio che invece troviamo perfettamente nel Genesi. Ma di fatto in qualche modo lo troviamo anche a ripercuotersi nelle ancora attuali teorie scientifiche circa l'inizio delle cose. Nessuno è ancora riuscito in qualche modo a sconfessare la teoria che sa molto di teoria di flusso religioso del Big Bang, contrariamente a tutte le varie altre teorie che sono uscite. Pertanto un'idea di inizio è nata sicuramente nella filosofia occidentale, nel pensiero occidentale con il cristianesimo, quindi con il Genesi e via dicendo. E allora no, noi diciamo invece da cristiani che la materia non esiste da sempre, semplicemente perché la materia non è Dio e se la materia esistesse da sempre sarebbe Dio, sarebbe eterna. La materia è stata creata come l'uomo è stato creato, la materia naturalmente io intendo ciò che è inanimato, ma in realtà anche ciò che compone il nostro corpo, tutto è materia naturalmente. La materia è stata creata da Dio dal nulla, questo è il concetto cristiano della creatio ex nilo, la creazione dal nulla. Naturalmente Dio ha creato anche ciò che non è visibile, ha creato le anime, ha creato gli angeli. La sua volontà e il suo amore hanno voluto questo. Naturalmente la scelta di Dio è stata libera perché Egli non è causato, è causa incausata, come ci dice la filosofia atomista, prima ancora anche Aristotele, ed Egli è causa di se stesso, Egli è causa incausata. Diversamente sarebbe una conseguenza se non fosse causa di se stesso e non sarebbe, non potrebbe essere Dio. Questo è un concetto cui ci arriva, come ha spiegato bene la filosofia, anche la ragione umana. Quindi non c'è bisogno, è eresia quella di pensare che serva la fede per arrivare alla conoscenza se non altro, alla comprensione del fatto che il mondo deve essere creato da qualcuno. Ci vuole poi la rivelazione cristiana per capire chi sia Dio. Certamente alla Trinità, al concetto di Trinità, non possiamo arrivare con le sole forze della ragione umana che peraltro è stata creata da Dio, ma all'idea di un creatore, di un cosiddetto motore immobile, come ebbe in modo di dire Aristotele prima ancora, del cristianesimo, ma che vide già attraverso la ragione ispirata da Dio, una qualche forma poi della conoscenza cristiana, ecco, alla conoscenza di un ente primo, di un ente supremo, ci arriva la ragione. La ragione naturalmente che non vuole opporsi ideologicamente al pensiero, ma la ragione che ragiona appunto con la propria testa. Un uomo che ragiona con la propria testa riesce a comprendere che non si può andare a ritroso, non si può fare un regressum ad infinitum, come dicono i filosofi, ma bisogna giungere sostanzialmente ad una prima causa che non è causata da alcun che. E questa è naturalmente quell'idea di Dio che poi troviamo, è ripercuotersi, poi comparire nella rivelazione. Ecco qua, arriviamo poi ad un altro argomento invece altrettanto importante, è un argomento che naturalmente è un po' il cavallo di battaglia di tutti i nemici della Chiesa, spesso a volte anche dentro nella Chiesa, perché sappiamo che il diavolo si diverte a inserire anche i nemici, a attrarre, a sedurre a sé, anche tante persone che in teoria dovrebbero essere difensori della Chiesa, sacerdoti, via dicendo. La domanda è questa, se i componenti della Chiesa, quante volte l'abbiamo sentita, hanno compiuto nella storia così tanti misfatti? Indubbiamente è vero, perché pensiamo soprattutto alla corruzione del clero nel corso di questi 2000 anni di storia, anche gli atti, lo sappiamo, più recenti, purtroppo la vergogna della pedofilia, vi dicendo. Ecco, se queste persone, uomini di Chiesa, hanno compiuto nella storia così tanti misfatti, non è giusto allora allontanarsi dalla Chiesa. Questo è quello che hanno fatto, per esempio, tanti tedeschi. Io, conoscendo la Germania, ne ho coscienza abbastanza chiara di fronte al Missbrauch scandale, quindi gli scandali appunto della pedofilia, che sono stati purtroppo riconosciuti in gran parte anche in Germania, tanti hanno detto io non voglio più far parte della Chiesa cattolica. A di là del fatto che poi lì bisogna stare attenti, perché i dati statistici non corrispondono sempre alla reale allontamento dai sacramenti, e vi spiego perché, se vi interessa ve lo posso spiegare, perché in Germania, se si appartiene ad una fede religiosa, bisogna in occasione dell'iscrizione presso il comune di residenza dirlo assolutamente. Cioè, se io sono cristiano, non mi posso dichiarare ateo. Ora, certamente potrei farlo, nessuno viene a controllare se vado o non vado in Chiesa, però naturalmente è brutta cosa sconfessare la propria fede di fronte al comune. Allora, molte persone che cosa fanno? Dichiarano di essere ateo semplicemente perché non vogliono più pagare quella che è la ritenuta, diciamo, sullo stipendio. Di fronte agli scandali della pedofilia, il tedesco, ma anche in altre nazioni, per non dover pagare necessariamente una quota del proprio stipendio che viene lasciata alle comunità religiose, dichiara di essere ateo. Poi probabilmente magari partecipa ancora ai sacramenti, vi dicendo, anche se giustamente si scandalizza per questi reati. Per cui capite, bisogna stare attenti anche alle statistiche su quante persone hanno apostatato in Germania negli altri stati. Perché in alcuni paesi è così. Se uno dichiara appunto di appartenere, di avere una fede religiosa, i propri soldi vanno automaticamente. È una parte del proprio stipendio alla varia confessione religiosa. In Italia sappiamo che non è così. La grande critica sull'otto per mille è quanto mai ideologica, perché se io non voglio dare i soldi alla Chiesa attraverso l'otto per mille non li do. Poi ti dicono, eh ma vengono comunque ripartiti in base percentuale a tutte le comunità religiose. D'accordo, d'accordo, ma non è la mia scelta personale. Ok? Pertanto c'è una grande differenza. Da una parte appunto uno Stato, come la Germania, che ha fatto questo concordato, al mio giudizio, è assolutamente ingiusto, perché io posso anche essere credente, ma non voler dare il mio contributo per varie ragioni, insomma, alla Chiesa cattolica. E in altre zone non è così. Pertanto, ecco, stiamo attenti a quelle statistiche che dicono tanti si sono allontanati in Germania perché sono statistiche semplicemente che fanno riferimento alle iscrizioni, a ciò che comunicano i cittadini in occasione della propria iscrizione appunto di residenza, eh, trasferimento di residenza nel comune invece che in un altro. Va bene, mi sono allontanato un pochettino dall'argomento, ma per dire che questi scandali naturalmente hanno colpito grandemente la sensibilità di tanti credenti li hanno portati indubbiamente ad allontanarsi proprio di fatto dai sacramenti compiendo un peccato mortale, naturalmente perché senza sacramenti e senza andare naturalmente a riconoscere la domenica, ma non solo la domenica, il sacrificio di Cristo, ovviamente è difficile che ci possa salvare perché si va in peccato mortale. E allora, possiamo chiamare la Chiesa ancora santa? Eh, questa è la grande domanda. Certo, la Chiesa è santa, attenzione, non in virtù della santità di chi la compone, quindi dei singoli individui che possono cadere purtroppo anche nel peccato, anche mortale. Anche il Papa può cadere in peccato mortale, questo forse qualcuno, alcuni non lo sanno, eh, l'infallibilità non vuol dire incapacità di compiere peccato. Quello era soltanto propria della Madonna, in quanto priva del peccato originale, eh, per i suoi meriti. Ma la Chiesa è santa in virtù del sangue di Cristo, morto sulla croce per la salvezza degli uomini, dove si trova questo sangue, corpo, anima e dignità di Cristo, nella Santissima Eucaristia, in tutte le Chiese del mondo. Nell'ultima cena, Egli, Gesù Cristo, istituisce l'Eucaristia e comanda agli Apostoli che la Chiesa rinnovi il suo sacrificio di croce nel pane e nel vino. Fate questo in memoria di me, ok? Non solo in ricordo di me, come ci dicono i luterani, no, in memoria di me e davvero in memoria del mio sacrificio che ritorna, che si ripresenta, che si ripresenta appunto nell'offerta sacrificata. Per questo la Chiesa è santa, perché si è stata fondata da Cristo e conserva i sacramenti della salvezza con la S maiuscola, che Egli ha ottenuto morendo sulla croce per darci la vita eterna. attenzione è a sputare sui sacramenti, a considerarli come riti, come meri riti che aiutano la fede. Come diceva Lutero, no, i sacramenti sono anche questo, ma i sacramenti sono segni efficaci. Dice la Chiesa Cattolica, cosa vuol dire? Che sono sicuramente dei segni, quindi anche dei simboli, che certamente aiutano anche la fede, ma hanno una forza, una forza che proviene dallo stesso Gesù Cristo, che li ha istituiti, la sua grazia santificante che ci viene conferita attraverso i sacramenti, possiamo farne buon uso, possiamo farne cattivo uso, ma è una grazia che converte l'uomo. E quindi che ci fa superare, ci dà la forza anche di vincere contro ogni peccato, se lo vogliamo. Questo dunque è il motivo per cui la Chiesa Cattolica, la Chiesa fondata da Cristo, naturalmente non i gruppi eretici, non i fondati da uomini, è comunque santa. E non ci deve scandalizzare questa frase. La Chiesa è santa proprio perché Dio l'ha voluta separata dal mondo, questo vuol dire santos. Ricordo che in greco santo si dice agios, e agios è negazione della terra, negazione dell'agea, che è la terra, quindi qualcosa di separato dall'agea, che è la terra. Questo è molto importante, quindi così dovete rispondere, dico ai miei ascoltatori, a chi mi segue, così dovete rispondere ai nemici della Chiesa. Dovete rispondere che certamente gli uomini di Chiesa possono, purtroppo, anche se non dovrebbero essere peccatori, anche se forse è meglio che prima ci occupiamo dei nostri peccati, poi di guardare i peccati degli altri, anche se purtroppo lo vediamo tutti i giorni, insomma ci dispiace che tanti vescovi, a volte anche il pontefice, dicano cose o facciano cose, come ho spiegato anche in questi video, non cattoliche. Però prima guardiamo i nostri peccati, poi quelli degli uomini di Chiesa, questo è quello che ci serve dire. E continuando sotto questo aspetto, giungendo quasi a conclusione di questo penultimo appuntamento del Catechismo Cattolico, ci chiediamo se il cristiano debba studiare. Al termine ormai di questo Catechismo penso che anche voi sappiate rispondere a questa domanda, alla luce di quello che vi ho invitato a fare, quindi di guardare sempre con attenzione, con precisione, leggere, informarsi, ma soprattutto studiare, studiare e studiare i testi, non solo la scrittura, naturalmente che è la nostra prima fonte, la rivelazione, ma anche i testi del Magistero. Ci sono tanti libri, uno che vi ho consigliato è il Denziger, che è sicuramente impegnativo, ma è una selezione dei testi più importanti che la Chiesa ha scritto, a cominciare dei vari atti, dei vari concili ecumenici che sono dogmatici, su quello che è la fede della Chiesa. Bisogna studiare il contenuto della fede della Chiesa, non si può pensare di vivere una fede sentimento come quella, appunto, sappiamo già di chi, non lo ripeto perché poi sembra una fissazione, ma sono sempre loro. Il cristiano deve studiare il più possibile ciò che fino a qualche anno fa era in qualche modo nell'aria, potremmo dire, delle parrocchie, possiamo dire fino agli anni 40, 50, ciò che le nostre nonne, o forse per chi mi ascolta più giovane, le vostre bisnonne credevano e non c'era bisogno che ci fosse un sacerdote a spiegarlo o un stupidotto, scusate l'espressione come me, che è arrivato alla fede l'altro ieri, che vi deve spiegare queste cose perché lo sapevano, mia nonna che è morta nel 2004 e che era persona che non aveva fatto neanche gli studi della scuola media, non aveva dubbi sull'immacolata concezione, magari non sapeva poi spiegarlo a parole, non aveva dubbi sull'assunzione di Maria Santissima, non aveva dubbi sul fatto che saremmo giudicati sulle opere, non aveva bisogno, ripeto, di uno stupidotto come me che va a scrivere queste parole che sono nient'altro che la dottrina di fede, ma che si scontra inevitabilmente su questo canale, adesso cerco di essere un po' più moderato negli ultimi commenti, con persone che purtroppo vivono come noi, dentro in un mondo ormai scristianizzato, anche dentro una chiesa scristianizzata, perché è composta da persone che però non hanno più, non vivono più dentro in quell'aria che respiravano i nostri nonni e che comunque vivono ormai in un'apatia totale. Quella chiesa che Gesù Cristo butta, vomita nella famosa chiesa dell'Apocalisse è questa chiesa, di gente che va in chiesa, che assiste ad un rito perché è tradizione, ma è tradizione nel senso più negativo del termine, ma che non sa più nulla, non sa spiegare i fondamenti della propria fede. Allora noi dobbiamo invece spiegare la ragione della nostra gioia, la ragione della nostra fede, come dice San Pietro, e dunque siamo tenuti a studiare quello che prima forse non era così necessario fare perché c'erano sacerdoti che lo spiegavano dal pulpito e due perché in qualche modo il mondo era cristiano, c'è proprio da fare. E allora il cristiano deve studiare, il cristiano deve studiare il più possibile la parola di Dio e la dottrina della chiesa. In un mondo sempre più secolarizzato, dove si tende a sostenere che la verità non esiste, attenzione al relativismo presente anche nella chiesa. Il cristiano deve possedere i mezzi culturali per dire al mondo, attenzione, mezzi culturali non vuol dire che deve essere laureato, non fraintendiamoci, può essere anche una persona che ha fatto la quinta elementare, mezzi culturali vuol dire che si mette lì e studia la scrittura, ci sono anche tanti vari sacerdoti, anche online, non io, i sacerdoti che fanno tante belle cose, io umilmente anche questo canale, d'accordo, però tanti sacerdoti oppure tante catechesi anche in presenza, anche nelle parrocchie, tanti mezzi e poi soprattutto vi ho detto i libri. Quindi culturale vuol dire informarsi, culturale vuol dire leggere, culturale non vuol dire ho la laurea, posso avere pure la laurea in teologia ma averla presa, vabbè lasciamo stare, insomma è in gruppi e in fondazioni dove si insegna l'eresia. Quindi possedere i mezzi culturali per dire al mondo la verità del Cristo e questo cristiano lo deve fare contro avversari scaltri, intelligenti, sempre più agguerriti, attenzione noi non studiamo, le altre religioni studiano, gli altri gruppi religioni studiano, i luterani studiano, i valdesi studiano, i nemici della chiesa studiano, i cristiani invece. Dice, vabbè, è necessario pertanto prepararsi bene per la buona battaglia, quella di cui parla San Paolo, che ha preparato la buona battaglia, dice ai suoi, a Timoteo se non sbaglio, a Tito, questo dovrei ricordarlo, in difesa di ciò che è il Cristo, a Tito, e la chiesa ci comandano di credere per la nostra salvezza. Così come San Paolo dice che la buona battaglia è un agone, è una vera attività sportiva, no? Agon, in greco, così, così, allora dobbiamo fare anche noi. Il mondo contemporaneo è infatti anticristiano e mancano anche a molti credenti i fondamentali della fede per negligenza propria, attenzione, attenzione, perché l'ignoranza incolpevole la possiamo accettare per quello che è nel paesino sperduto di Kyrgyzstan, con tutto rispetto per questi paesi sperduti in cui forse non sono arrivati alla conoscenza del cristianesimo. Per gli altri no, per gli altri l'apostasia non è giustificata, puoi giudicherà Dio naturalmente, però, però, obiettivamente, in un paese cristiano o di formazione, comunque di fondazione cristiana non è accettabile che non si conoscano i fondamenti, soprattutto quando non si è apostati ma quando ci si dichiara, appunto, come cristiani, eh, si va messa la domenica ma non solo, si fanno anche attività magari, diciamo, di grande valore, anche le mosine, vi dicendo. Negligenza propria, negligenza degli ordinati. Sì, questo l'abbiamo già detto tante volte, non dobbiamo, ovviamente, criticare facendo i nomi e i cognomi non è necessario e non è soprattutto richiesto da Dio che ci ha chiesto di non giudicare ma dobbiamo sapere, dobbiamo fare, appunto, una cernita, eh, dobbiamo ascoltare bene quello che ci viene detto in, insomma, durante le omelie e dobbiamo capire ciò che è cattolico e ciò che invece non lo è. Non dobbiamo andare a fare tante polemiche, a me è capitato anche qualche volta, sbagliando, di rincorrere, però a volte proprio non ce l'ho fatta, qualche sacerdote che adesso ha detto delle enormi fesserie dal pulpito, eh, uno addirittura dichiarò che il purgatorio di fatto non esiste, eh, poi quando io lo fermai dopo la celebrazione mi disse che è molto complicato, lasci stare, quindi ha disatteso la sua funzione di essere un educatore, un formatore, perché è complicato? Spiegami. Io gli ho detto la dottrina della fede e mi sembra che non sia cambiata, non c'è stato un documento papale o comunque un concilio che ha affermato che erano tutte falsità, quelle stabilite in maniera chiara sul purgatorio da vari concili medievali, tra cui il concilio di Lione, il concilio aterranense IV, via dicendo, e poi il concilio di Firenze. Quindi state attenti, eh, non perché bisogna fare i fighettini, scusate l'espressione delle mie parti, i de più, no? Se vogliamo usare invece un'espressione romana e dire, ah, io so, io so il fariseo, insomma, quello che sa tutto, no, ma semplicemente per noi stessi e per gli altri, dire quello che è la verità, perché noi dobbiamo conoscere per la salvezza della nostra anima, il rischio è concreto, eh, se noi crediamo, per esempio, che l'inferno sia vuoto, come ha detto qualcuno, non dico chi, ma è una mia opinione personale, poi aggiunto, noi abbiamo un rischio per la salvezza della nostra anima, perché se l'inferno è vuoto, sono tutti salvi, al massimo un po' di purgatori e poi paradiso, capite qual è il rischio, eh? Ho già spiegato tante volte, ma lo ripeto, l'inferno non è vuoto, perché abbiamo avuto innanzitutto la responsabilità della scrittura, dove troviamo, per esempio, la famosa parabola del pulone, ma anche e soprattutto, ma anche e soprattutto il giudizio universale, eh, dove troviamo, naturalmente, quella immagine della separazione tra le pecore e i capri, eh, tra chi ha fatto la volontà lì, chi non ha fatto, e gli altri vanno all'inferno, insomma, c'è poco da fare, quindi... per cui, capite, queste sono tutte eresie perniciose, che spesso però sentiamo dire, eh, state attenti, quindi riuscire a capire queste cose ci permette con l'influsso, naturalmente, l'aiuto dello Spirito Santo, che chiamiamo sempre in causa con la grande perghiera del Vieni Santo Spirito, noi riusciamo a capire davvero con l'ispirazione dello Spirito Santo ciò che è cattolico, e sentire proprio la puzza, scusate l'espressione di ciò che è invece eretico, eh, anche quando, anche quando con la furbizia del demonio questo in qualche modo si nasconde, eh, tra le ricche. E bene, e quindi questo è molto importante, eh, bene, quindi concludo, eh, sono stato già troppo lungo, l'ultimissimo video di questo catechismo cattolico, che finisce, era breve, si conclude con la figura del Papa, la figura del Pontefice, non ovviamente del Papa Regnante, ma del Papa in generale, andremo a rivedere che cosa si intende per dichiarazione di infallibilità papale, il Dogua infallibilità papale, che è stato, come sappiamo, proclamato da Pio IX nel 1864, se non erro, sì, e qui quindi ha suscitato grande scalpore, che tanti dovrebbero mettere attualmente in discussione, eh, quindi la figura del Papa, e così termineremo, un Papa cerivato sacerdotale, e per finire anche alcuni riferimenti e riflessioni sul monachesimo.